Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Sono tornati al lavoro dopo 53 giorni di sciopero i 100 dipendenti della sede di Chiettiscalo della Tales. Dopo la firma dell'accordo con i sindacati, ora si stanno avviando le attività di riordino tra le società che hanno costituito la nuova era dell'azienda, il servizio. L'immagine più significativa dopo 53 giorni di sciopero è quella della lunga fila dei lavoratori che rientrano nello stabilimento per ridare avvio alle attività di produzione. L'accordo tra Tales e sindacati si è concluso con la certezza della continuità lavorativa e la stabilità economica dei suoi dipendenti. I protagonisti in questo scenario sono da un lato i lavoratori, dall'altro il governo nazionale, quello regionale e poi ci sono tre società, la Tecne, la Tales e la Sapura. Qual è il ruolo di tutti questi all'interno di quello che si è sottoscritto nella scorsa settimana? Il ruolo di tutti è di assoluta garanzia, chiaramente ognuno fa la sua parte, il governo sarà garante assoluto di tutta la discussione che comunque dovrà continuare a svolgersi nel corso dei prossimi giorni tra noi e l'azienda e tra le tre aziende, però tutti si impegnano a salvaguardare i livelli occupazionali di questo sito produttivo. La Tecne è la società che si è fatta avanti per salvare il destino dei lavoratori. In questo caso ai lavoratori è stata data una forchetta di scelta. Cosa potranno scegliere? Allora, innanzitutto i lavoratori nel limite del possibile potranno decidere se stare in Star 1000, quindi in progetto Sapura oppure in Tales. Coloro che resteranno in Tales potranno decidere a loro volta se restare nel gruppo e quindi trasferirsi presso altre sedi oppure se stare in Tecne, azienda che si è impegnata a garantire il mantenimento di tutti i posti di lavoro. In questo caso avete chiesto, forti di questa esperienza, anche una garanzia a tre anni. A chi? Abbiamo chiesto a Tales di garantire, per quanto riguarda il progetto Star 1000, di garantire un periodo minimo e l'abbiamo fatto su due punti. Il primo è che Tales si impegna a riassorbire tutte le persone coinvolte in quell'esperienza lì qualora dovesse esserci un default industriale. Dall'altra parte abbiamo chiesto a Star 1000 di garantire un periodo minimo di sopravvivenza nel territorio che adesso andremo a definire, io penso, sia di 6-7 anni. Quindi, diciamo, tutte le garanzie necessarie affinché le persone possano sentirsi tranquille. Indifferentemente dalla scelta tutti avranno un incentivo, un bonus economico. Sì, ci saranno dei bonus, chiaramente differenziati in base ai livelli di rischio, però tutti prenderanno, diciamo così, avranno un riconoscimento economico per l'avvio di queste nuove esperienze. Quanto tempo c'è per la scelta definitiva dei lavoratori? Entro fine maggio si concluderà la prima fase e quindi entro fine maggio bisognerà decidere. Accolta la richiesta di prescrizione per tre imputati, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa di uno degli imputati accusati di corruzione. E' respinte alcune eccezioni delle difese in merito all'ammissione delle parti civili. E' quanto ha deciso questa mattina a Pescara il presidente del Tribunale collegiale Rossana Villani nell'ambito del procedimento che ruota attorno all'appalto e alla gestione del dragaggio del porto canale di Pescara. Nel 2011 15 gli imputati accusati a vario titolo dal PM della procura distrettuale antimafia dell'Aquila, Simona Ciccarelli di turbativa d'asta, corruzione, smaltimento, illecito di rifiuti, falso, truffa e altri illeciti in materia ambientale. La terna dinanzi al giudice civile di Lanciano Cordisco ha rinunciato a proseguire l'azione giudiziaria contro Silvia Ferrante, la donna di Paglieta che aveva contrastato la realizzazione dell'elettrodotto Villanova-Gissi. Oggi erano in discussione i primi 12 procedimenti. Il gigante si inchina alla formica, così il coordinamento dei comitati non elettrodotto Villanova-Gissi commenta il ritiro delle citazioni in giudizio da parte di Terna dei confronti di Silvia Ferrante, la mamma attivista di Paglieta citata per 24 volte con la richiesta di un risarcimento danni complessivo di 16 milioni di euro. In tribunale a Lanciano, davanti al giudice civile Cleonice Cordisco, sono stati chiusi i primi 12 procedimenti a carico di Silvia, che con la sua storia e la campagna Io sto con Silvia aveva catalizzato la solidarietà di migliaia di cittadini semplici e comitati contro grandi infrastrutture da tutta Italia. Oggi Terna è arrivata con la volontà di voler rinunciare al proseguire di questi procedimenti giuridici. Questo cosa vuol dire? Che rinunciando alla domanda automaticamente decade tutto il procedimento. Quindi non abbiamo potuto far altro che prendere atto di questa cosa qua e prendere atto di questa piccola vittoria che io mi sento di riconoscere a tutte quante le persone che mi hanno sostenuto e che da sempre ci hanno messo la faccia e sono andata avanti contro questo elettrodotto. Mi riferisco alla campagna Io sto con Silvia più strettamente per quanto è avvenuto a me, quindi per questo atto di intimidazione subito da una grande multinazionale come può essere Terna. Ma mi riferisco anche ai sindaci che da sempre hanno contestato questa grande opera, così come anch'io in fondo mi ritrovo in questa aula di tribunale perché ho contestato questa opera. Così come invece dei sindaci che pur non essendo interessati dal passaggio dell'elettrodotto Villanova Gissi si sono espressi in merito non solo alla solidarietà alla campagna Io sto con Silvia e all'adesione ma anche proprio nel dire un no ad un modello di sviluppo che è quello che sta sotto sta a tutte queste grandi opere deputate diciamo al consumo di energia. Terna vuole rilassare le tensioni e il commento del coordinamento ma dovrebbe rendersi conto della gravità di quanto fatto sinora, non solo nei confronti di Silvia ma anche di chi sta ancora affrontando questo ingiusto calvario per non aver sottoscritto un accordo o per aver difeso i diritti dei proprietari. E ora parliamo della nuova legge sulle unioni civili. Tra i firmatari c'è anche la senatrice del PD Stefania Pezzopane che parla di grande passo avanti per tutto il Paese. C'è anche il nome della senatrice PD Aquilana Stefania Pezzopane tra i firmatari del decreto legge Cirinna recentemente convertito in legge che fissa regole, diritti e doveri per le coppie sia eterosessuali che omosessuali. Un testo che secondo l'esponente Democrat mette l'Italia al passo con le altre legislazioni europee. Sì, ormai la legge è a tutti gli effetti legge dello Stato, un lavoro faticosissimo, un impegno che avevamo assunto in campagna elettorale che abbiamo onorato alla grande e la legge sulle unioni civili consente anche alle coppie omosessuali di avere una relazione che la legge a questo punto riconosce con tutte le conseguenze del caso. Ci avevano provato numerosi governi prima di questa operazione politica importante con i Dico, con i Pax e con altre formule senza riuscirci. Noi abbiamo trovato il giusto equilibrio e che è un riconoscimento giuridico con le conseguenze relative ai diritti delle due persone e non abbiamo inserito la questione delle adozioni in questa fase perché è una questione su cui dobbiamo ragionare meglio ed evitare i pericoli legati alla maternità surrogata. Sulle adozioni però stiamo intervenendo perché la legge italiana sulle adozioni è comunque una legge molto arretrata. Una legge però contestata e non condivisa dall'intero Parlamento, in particolar modo dall'elettorato cattolico e di quello aderente al Family Day che ha minacciato di votare no ad ottobre quando gli italiani si dovranno esprimere sulla riforma costituzionale. C'è una parte della politica che campa proprio su queste ideologie nel senso che non ha alcun ruolo politico, non riesce a determinare nessun fatto storico, vive solo sull'integralismo, quindi fa campagne integraliste per auto mantenersi in vita e questo i cittadini lo colgono e se ne allontanano. Il reparto di medicina dell'ospedale clinicizzato di Chieti è stato sottoposto ieri ad ispezione dai carabinieri del NAS di Pescara. Quello di ieri è stato il secondo controllo nel giro di pochi mesi. Una prima ispezione infatti era avvenuta a gennaio quando erano state riscontrate una serie di irregolarità per quanto riguarda la presenza di diversi letti in corridoio, di bombole d'ossigeno disposte male a terra sempre in corridoio e di farmaci scaduti. A quanto sembra molte di quelle irregolarità sono rientrate, non sono state riscontrate ma ci sono ancora dei problemi da risolvere. Nel corso del secondo controllo infatti è emerso che quattro pazienti erano sistemati nel corridoio con i retti di degenza esistono ancora delle criticità strutturali per quanto riguarda i locali e i bagni. Tutti aspetti che saranno segnalati dai carabinieri del NAS all'autorità sanitaria affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti. Dopo vent'anni dalla progettazione circa un milione di euro spesi il distretto sanitario di Montesilvano è ancora in fase di attivazione. La denuncia da parte del Movimento 5 Stelle. Sul distretto sanitario di Montesilvano sui ritardi in particolare il Movimento 5 Stelle accusa la regione Abruzzo. In che termini? Come per Cepagatti anche qui a Montesilvano c'è un distretto nuovo di Zecca possiamo dire progettato, addirittura il progetto risale nel lontano 1995 che a oggi non è ancora attivo. L'utenza si serve ancora del vecchio distretto che si trova su Corso Umberto un vecchio distretto fatiscente che fa acqua a tutte le parti che ha subito anche un'ispezione da parte del nucleo antisofisticazione dei carabinieri che ha rilevato tutta una serie di enormi criticità. L'Als di Pescara, quindi la regione Abruzzo, paga oltre 110 mila euro annui di affitto per mantenere in piedi il vecchio distretto. Quindi noi abbiamo interpellato il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, che appunto da cui dipende l'azienda sanitaria di Pescara per conoscere quali sono le intenzioni le volontà della regione Abruzzo perché non si è attivato ancora il nuovo distretto, sembrerebbe che ci siano problemi anche legati alla sicurezza e alle norme sulla sicurezza, sembrerebbe che non è stata ancora installata una scala di ingendio, che addirittura non ci sono sistemi di climatizzazione all'interno del nuovo distretto in osservanza della legge 32, una legge regionale. Quindi vorremmo capire quali sono i motivi e soprattutto perché questo esige il Movimento 5 Stelle, se ci sono responsabilità da parte di funzionari, di dirigenti che non hanno attivato nei tempi questo distretto e se ci sono anche responsabilità erariali, vogliamo conoscere e sapere chi ha sbagliato, perché chi ha sbagliato deve pagare. Dovrà essere approvato entro la settimana prossima il bilancio comunale all'Aquila. All'Orizzonte c'è il nuovo aumento della Tari. È iniziato il conto alla rovescia Villa Gioia per l'approvazione del bilancio comunale. Entro il 25 maggio, ultimo giorno utile, dopo la diffida del prefetto, partita dopo il mancato via libera nei termini previsti dalla legge del bilancio, il Comune dell'Aquila dovrà approvare lo strumento contabile finanziario o si arriverà allo scioglimento del Consiglio comunale. In attesa che arrivino fondi, dopo le promesse dal Governo, è arrivato il via libera del Revisore dei Conti, anche se all'Orizzonte si prospetta un'altra mazzata per i contribuenti aquilani, che dopo l'aumento del 20% delle scorse settimane potrebbero veder salire di un ulteriore 30% il costo della Tari, la tassa sui rifiuti. Il Collegio dei Revisori, infatti, ha espresso parere positivo ma con riserva, sottolineando come il documento di previsione finanziaria necessita di un attento monitoraggio in merito al mantenimento degli equilibri di parte corrente e dell'attuazione con estrema sollecitudine di ogni azione necessaria in caso di mancato riconoscimento del trasferimento erariale straordinario a fronte delle minori entrate e maggiori spese da sisma. Come a dire, se non arriveranno i fondi richiesti al Governo per ristorare l'ente delle maggiori spese e minori entrate dovute alla fase post-terremoto, 24 milioni stando alle valutazioni del Comune, 18 e 9, secondo la verifica istruita dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, sarà necessario predisporre azioni a copertura del disavanzo. Significa che l'amministrazione, non dovessero arrivare le risorse assicurate ogni anno, almeno finora, dall'esecutivo nazionale, dovrà alzare la Tari già schizzata al 20% di un ulteriore 30% a luglio. Il contratto con OSM, come è noto, è pari a 11 milioni e mezzo di euro. Il Comune dell'Aquila in questi anni ha provveduto alla copertura in misura prevalente con il gettito di applicazione delle tariffe Tari per l'importo residuo, facendo ricorso alle risorse stanziate annualmente dalle competenti autorità governative. I fondi del Governo, appunto, non dovessero arrivare con l'aumento del 20%, si tirerebbe avanti per qualche mese, poi la SM non potrebbe più raccogliere l'immondizia se non a fronte di un ulteriore pesante aumento della tassazione. Si tratterebbe di un vero e proprio salasso per gli aquilani, sia per le imprese, sia per le famiglie. Intanto, il documento di previsione, così come approvato dall'Aggiunta, passerà al vaglio della Commissione di bilancio per l'approvazione domani, martedì 17, e giovedì 19 maggio, giusto in tempo per il Consiglio Comunale, che dovrebbe ratificarlo con l'assisa la prossima settimana. Dall'agosto del 2015 fino ad oggi, l'ordinanza di sgombero del mercatino etnico di Pescara non ha ancora prodotto effetti. Forza Italia chiede la regolamentazione dell'attività al pari degli operatori rionali. Sono passati nove mesi da quando un'ordinanza ha sancito lo sgombero dell'area adiacente alla stazione di Pescara, popolata da bancarelle abusive. Da lì in poi, l'amministrazione comunale ha vagliato diverse alternative per spostare e regolamentare venditori e merci. Ad intervenire oggi è Forza Italia, che lamenta ritardi e chiede una regolamentazione effettiva. Tutto inizia al 1 agosto del 2015, quando un'ordinanza doveva prevedere lo sgombro di quest'area mercatale, e poi tutta una serie di atti amministrativi, a partire dal 1 agosto fino ad arrivare in giorni recenti, che hanno individuato uno spazio idoneo, secondo l'amministrazione comunale, che doveva essere quello del sottopasso, secondo noi è assolutamente sbagliato. Sino all'apertura di uno sportello, che doveva essere frequentato dagli operatori di questo finto mercato, e che non è stato assolutamente utile, perché abbiamo visto che solo una ventina di operatori hanno chiesto informazioni su come regolarizzare la loro posizione. Infine ad un bando che doveva prevedere, e ha previsto la partecipazione di cooperative o di aggregazioni di operatori mercatari per distribuire questi operatori all'interno dei mercati rionali, e che ha visto la partecipazione solo dell'Arci, che probabilmente non avrà i requisiti. Qual è la posizione del centro-destra? Gli operatori di questo mercato devono prima di tutto regolarizzarsi, come tutti gli altri operatori italiani, quindi devono produrre una scia per poter vendere materiale non quello contraffatto, ma materiale evidentemente etnico, perché se si chiama etnico noi ci attendiamo che loro vendono materiale etnico, e poi che vengano inseriti all'interno dei mercati rionali, come tutti gli altri operatori dei mercati. Nel corso dell'Assemblea, il Presidente della provincia di Terramo, Renzo Di Sabatino, ha proposto la liquidazione volontaria della Gran Sasso Terramana, società che gestisce gli impianti di risalita del versante Terramano del Gran Sasso, anche a seguito della decisione della Camera di Commercio, che detiene il 40% delle quote di uscire dalla compagine pubblica, e constatate le difficoltà legate all'affidamento di gestione degli impianti. Di Sabatino ha espresso forte preoccupazione per la situazione che si è venuta a determinare, che rischia di pregiudicare la sorte del comprensorio turistico Prati di Tivo, Prato Selva. Non sono stati approvati i bilanci 2014 e 2015 della società, perché permangono contrasti sulle poste di credito nei confronti della provincia. Il Comune di Pescara, dopo un anno e mezzo di confronto, incontro con i sindacati, ha modificato il contratto collettivo decentrato. Da oggi più attenzione alle esigenze del personale. Assessore, con le modifiche del contratto collettivo decentrato si risolveranno effettivamente le criticità riscontrate in questi anni per quanto riguarda appunto il personale? Certo, ovviamente come assessore al personale nel momento in cui mi sono insediata ho preso atto ovviamente del contratto che era stato firmato nel maggio 2014 e nella piena condivisione con i sindacati abbiamo comunque, come dire, avviato una strada di condivisione per poter poi ovviamente intervenire sulle criticità nel momento appunto dell'applicazione del contratto. C'erano degli istituti che dovevano essere resi ovviamente più snelli e quindi noi con l'amministrazione con il loro supporto, il supporto dei sindacati siamo riusciti quindi a dare delle linee di indirizzo che poi il tavolo trattanto ovviamente ha elaborato, quindi ha definito per giungere poi a poter far firmare queste modifiche al contratto collettivo decentrato integrativo da tutte le sigle. Le criticità sulle quali noi adesso abbiamo comunque agito e lavorato riguardano soprattutto la performance dipendente e le progressioni economiche orizzontali che quindi è un istituto che a seguito anche delle normative intervenute era abbastanza diciamo diventato rigido quindi occorreva intervenire per velocizzarlo ed è quindi un importante risultato che grazie all'intervento che c'è stato insomma con incontri vari i sindacati insomma li abbiamo avuti vicino quindi sono stati in grado di aiutarci a superare queste difficoltà e poi una cosa importante in vista anche dell'estate abbiamo comunque reso più flessibile la turnazione del dipendente che fa turnazione per quanto riguarda la polizia municipale in vista quindi di maggiori controlli e quindi sicurezza sul territorio riusciremo quindi ad avere la possibilità di più turni. I rappresentanti delle associazioni culturali di Pescara presentano i dettagli della campagna del governo sul recupero di luoghi storici e invitano i cittadini ad aderire all'iniziativa. Abbiamo raccolto come amministrazione Alessandrini questa opportunità che il governo Renzi ci ha dato il governo Renzi ha messo a disposizione 150 milioni di euro per tutta l'Italia chiaramente e invita i cittadini a mandare delle mail nel sito bellezzachiocciolagoverno.it proprio per segnalare luoghi da recuperare o strutture da restaurare siccome è necessario avere dei progetti come amministrazione ci siamo interessati di questa opportunità e abbiamo individuato due elementi importanti della nostra città identitari per la città di Pescara che sono il restauro della stele danunziana e la manutenzione straordinaria quindi un progetto di recupero anche del museo Basilio Cascella sito in Pescara quindi non resta che invitare la cittadinanza ad aderire alla campagna sì, chiediamo proprio l'aiuto della stampa perché tutti i cittadini sensibili al patrimonio artistico della città mandino delle mail indicando la stele danunziana e il museo Cascella o l'uno o l'altro o ambe due con più mail a bellezzachiocciolagoverno.it Torniamo ora all'Aquila nuovi parcheggi e modifiche alla viabilità il servizio Sono partiti oggi i lavori per realizzare la segnaletica orizzontale dei parcheggi sull'ultimo tratto di viale Corrado IV circa 40 posteggi con posti riservati anche ai disabili come annuncia l'assessore comunale alle opere pubbliche Maurizio Capri una scelta quella dell'amministrazione per far fronte alle numerose richieste dei commercianti della zona che negli ultimi anni a causa di lavori e mancanza di parcheggi circostanti hanno visto ridursi drasticamente il numero dei clienti dei loro esercizi commerciali entro la prossima settimana invece si concluderanno i lavori relativi ai parcheggi della Rotonda tra viale Corrado IV e via Beato Cesilio a breve ci sarà l'inaugurazione anche in quella zona si pagava la mancanza cronica di aree di sosta i lavori in quell'area sono costati circa 200.000 euro i parcheggi a servizio delle attività commerciali sono 50 in zona ci sono anche dei palazzi appena ristrutturati che a breve verranno riconsegnati ai proprietari l'assessore Capri ha chiarito che si sta ultimando anche la segnaletica nella stessa area mentre entro la fine del mese dovrebbero essere pronti anche i parcheggi dell'Exompi la struttura cittadina che ospita gli anziani la viabilità complessiva di quella zona dovrà concludersi a breve con il terzo lotto in viale Corrado IV un lotto che prevede una rotatoria nei pressi del casello dell'Aquila Ovest e il cui completamento è previsto per il mese di giugno in questo modo ha spiegato Maurizio Capri si avrà un collegamento tra la statale 17 e la statale 80 che diverranno così a senso unico e ora apriamo la pagina sportiva e parliamo subito di Pescara da oggi è aperta la vendita dei tagliandi per la partita di venerdì tra Pescara e Latina la partita che chiuderà il campionato con un Pescara però proiettato già verso i playoff la partita dovrà servire per blindare la terza posizione alla ripresa degli allenamenti lavoro sempre differenziato per il difensore Ugo Campagnaro intanto tiene banco tra le altre cose in ambito di Pescara Calcio l'addio del DG Giorgio Repetto non ancora ufficializzato e poi l'acquisizione anche questa da effettuare da ufficializzare del centro sportivo Poggio degli Olivi una delle vittorie più belle della stagione sicuramente una delle più importanti tra l'altro dinanzi a tantissimi tifosi in trasferta una gioia ancora maggiore assolutamente sì d'altronde quello che si fa si fa per loro quindi avere una curva intera piena che ti incita dal primo al 92esimo 93esimo è sicuramente importante i ragazzi hanno risposto veramente alla grande la società guarda il presente ma il lungimirante guarda anche al futuro e di queste ultime ore la notizia della possibile probabile quasi certa acquisizione del centro sportivo Poggio degli Olivi sì ci sto lavorando da un po' di tempo e siamo arrivati in fondo lunedì incontrerò di nuovo Peppe De Cecco insieme al suo commercialista perché per noi ho sempre detto è importante avere una casa e quella è già pronta lì e quindi siccome io non lavoro per fare dispetti a nessuno ma lavoro per costruire a mio avviso è l'operazione giusta in questo momento d'altronde l'avevo detto anche negli anni passati a Peppe di avere pazienza perché quando la società avrebbe avuto la possibilità di farlo l'avrebbe fatto siamo arrivati al punto che questa società può programmare anche l'investimento centro sportivo io parto da un presupposto che quando uno ha un giocatore o qualsiasi cosa tra virgolette da vendere io non è che sto qui ad aspettare le proposte io fisso quello che voglio e poi se c'è qualcuno me lo dà bene se non me lo dà nessuno ci obbliga domani mattina a farlo ma per me meno di 10 milioni il giocatore non li vale quindi è inutile che parliamo di altro io non regalo i giocatori non l'ho mai fatto Pescara si dice che è una bottega cara ma è anche una bottega che lavora molto bene quindi evidentemente il lavoro va pagato Caprari invece che anche oggi ha segnato un gran gol è richiestissimo quanto vale? se vogliamo una mia scommessa personale Caprari che avete riscattato quest'estate dalla Roma non solo e quindi evidentemente è una scommessa vinta grazie anche al lavoro che il mister ha saputo fare su questo ragazzo che evidentemente nessuno avrebbe gli avrebbe dato un centesimo all'inizio del campionato anzi crediamo Presidente con una battuta vale più il poggio o vale più Caprari? vale più Caprari sicuramente situazione opposta invece in casa Virtus Lanciano dopo il pareggio shock subito dalla Ternana sabato scorso il Lanciano che si giocherà praticamente una stagione nella gara spareggio di Livorno la squadra è tornata ad allenarsi cercando di concentrarsi su questa partita e di non pensare a quanto accaduto sabato scorso non si è allenato ovviamente il difensore Aquilanti ancora alle prese con l'infortunio patito nella gara di Pescara quasi certamente Aquilanti non sarà a disposizione per la gara dell'Ardenza vediamo l'ennesima dimostrazione di un campionato veramente strano pazzo il calcio è bello per questo ma in questo caso devo dire la verità è brutto per questo purtroppo l'avevamo in pugno non l'abbiamo mai sofferto era una partita che controllavamo che dire fa male fa male perché abbiamo preso gol su una spizzata un gol dietro che veramente se andiamo a rivedere sì errore nostro per l'amore di Dio perché non dobbiamo concederlo però insomma veramente il calcio è crudele Nicola abbiamo detto al mister come si riparte lavorando e con la convinzione di andarcela a giocare al Livorno lo spogliatoio i tuoi compagni di squadra come stanno? ma è normale che adesso siamo arrabbiati ci sono stati minuti dove sono volate parole però non fra di noi logicamente che dire noi adesso logico ci ricompatteremo io sono fiducioso abbiamo un gran gruppo non ci dimentichiamo di quello che abbiamo fatto fino adesso purtroppo è dura potevamo farcela un po' prima e non molleremo mai niente anche perché penso che abbiamo ancora una grande possibilità di salvarci a Livorno rientra anche un veterano come Bacinovic probabilmente gli uomini di esperienza faranno anche la differenza in quel tipo di sfide ma sì a prescindere da Bacinovic che sicuramente è un buon giocatore penso che chi ha giocato oggi al suo posto abbia fatto bene non conta sicuramente conta quello ma non è solo quello quindi noi abbiamo tutte le carte in tavola per far male a Livorno basta Cambiamo disciplina oltre 500 ciclisti hanno preso parte ieri alla prima edizione della Gran Fondo Città dell'Aquila organizzata dalla WISP Abruzzo e Molisi in collaborazione con l'amministrazione comunale alla cerimonia di premiazione ha partecipato anche il primo cittadino Massimo Cialente Sindaco Cialente la Gran Fondo dell'Aquila la prima edizione una grande manifestazione un grande successo un grande successo ho appena salutato addirittura uno sportivo un ciclista arrivato da Manchester con la famiglia beautiful beautiful perché la cosa importante è che il percorso è veramente bello perché noi abbiamo la fortuna di queste nostre aree che si attraversano qui nel Abruzzo interno è un grande successo lo ripeteremo organizzandolo sempre meglio si lega all'operazione che abbiamo fatto l'anno scorso della cima a Pantani che è una sfida io già mi sto preparando per riuscire a farla come si deve a settembre se ci riesco Sindaco due parole sulla WISP Abruzzo Molise che organizza sempre manifestazioni importanti dando a tutti la possibilità di partecipare dai più giovani ai meno giovani ma guardi io posso rilevare un piccolo segreto 43 anni fa giovanissimo studente appena studente di medicina a Lago fondammo WISP e Arci la WISP ha sempre avuto questo ruolo dà la possibilità di fare sport anche a chi lo fa ormai a livelli diciamo quasi paragonistici paraprofessionali addirittura ma anche a chi lo fa a livello amatoriale e la cosa bella è che qui oggi sono partiti insieme quelli come sarei partito io se non avessi avuto un problema destinato a impiegarci 7, 8, 10 ore ma parte anche poi quello che in questo momento è il campione d'Italia che ha fatto un tempo eccezionale questo è un po' il senso dello sport è lunedì e vi ricordo dunque l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay la trasmissione di Enrico Rocchi ovviamente si parlerà di Pescara di questa corsa verso il terzo posto che poi sarà da prologo diciamo così alla scalata playoff verso la serie dei Biancazzurri il TG6 invece torna alle ore 23 con la terza edizione grazie per l'attenzione buona serata grazie per la visione